poi fatto tutto il giro del cavalli davvero è cioè pesatevo è sceso di qua ecco il cavallo è figaro va bene per fare l'escozzo è sceso col cavallo da qua ora si deve venire di qua sta lì in piedi oh lì si cade su un pettinoi non faccio più niente è rischioso è meglio che lo tiro via è scopo di qui è scopo di qui Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.